Perché sono in squat? Le gambe mi fanno un male cane, ma non posso muovermi. Non devo muovermi. Tieni duro. Puoi farcela? Cerca di resistere, non mollare adesso. Continuo a sentire gli spari intorno a me. Ma finora mi sono salvata. Basta, mi fanno troppo male. Sono fuori. Cense con notici. Vicina come amore. Sono ho cercano le e le tue sentire, non ho troppo male. Ci piano mi sono limiti. Io a З hungry, a fare sentire. igare sulle sentire, le tue sentire . Ciao. Grazie.